E per vedere il video senza interruzioni pubblicitarie abbonati al canale. Buona visione! Questo principio è chiaro. Se per ogni causa esiste un effetto, ogni effetto ha la sua causa, cioè tutto avviene secondo una legge. Né chi sta in alto né chi sta in basso può sfuggire alla legge. Grazie alla conoscenza dell'ermetismo ci si può innalzare al di sopra del normale piano di causa ed effetto, almeno entro certi limiti, tanto da diventare causanti. Sappiamo che le persone sono condizionate dall'ambiente, tanto da essere mosse come pedine sulla scacchiera della vita. Coloro che giungono al piano superiore, però, riescono a dominare il proprio carattere, i propri stati d'animo, le proprie emozioni e quindi tutto ciò che li circonda. Queste persone diventano la mano che muove la pedina invece di restare pedina per sempre. Possono dire di partecipare attivamente al gioco della vita. In queste parole è condensata la grande ricchezza della disciplina ermetica. Chi può farlo ne approfitti.